ciao a tutti adesso facciamo un esperimento con le monete precisamente con una moneta questa qui che è antichissima e preziosissima mi serve un volontario vieni tu allora tieni questa moneta attenzione perché è molto preziosa ok pensa intensamente al fatto che ti vuoi arricchire arricchire sempre più e quindi vuoi un'altra moneta come questa sempre antichissima e preziosissima va bene tienila stretta fra le mani non farla scappare io ne farò apparire un'altra uguale tra questi due nodi ok ok pensa intensamente alla ricchezza vuoi un'altra moneta uguale sei riuscita hai visto fammi vedere